Il primo servo del Signore Melvino, Melvino, Melvino Non ce la faccio Abbaemus Papam Potreste affacciarvi al balcone, salutare i fedeli? Sì I cardinali sono disponibili a chiedere il sostegno della psicoanalisi Come si chiama? Lo chiami Santità Senta, immagino che io non possa chiedere qualcosa dell'infanzia? No Un accenno alla mamma? No Cominciamo Uno ha chiesto al dottore se è credente? E lo è No, non lo sono Male E che lavoro fa? Faccio l'attore Si sente meglio? Melvino, te l'ho detto! Ha deciso sto bene! Un miliardo di persone vi sta aspettando Che vedi che vedi a chi mi ha vittipo? E che vedi a chi mi ha vittipo? È un miliardo di persone vi sta aspettando Che vedi a chi non mi ha vittipo? Grazie a tutti.